Ogni mio viaggio si trasformava in una prova di resistenza fisica e psicologica. Perché? Perché doveva sempre essere così faticoso? Ogni paese in cui viaggi è la proiezione olografica del tuo livello di coscienza in quel momento. Se non c'è emozione non comprendi, non impari, non cresci, disse la mia voce interiore in risposta alla mia domanda. Sono parole tratte dal mio libro Il ponte tra i mondi che ben si prestano a introdurre l'argomento di questo video. Il viaggio come percorso della coscienza. Ma per viaggiare non è sufficiente visualizzare. Occorrono mezzi di trasporto reali, con ruote e volante. Sembrerà strano in un mondo dove a priori si ritiene che ogni impresa importante sia stata compiuta da uomini. Eppure, la prima persona a guidare un veicolo a motore fu Bertha Benz, moglie dell'ingegnere tedesco considerato l'inventore dell'automobile. Bertha, nel 1888, compì in Germania un viaggio di 180 chilometri, una lunga distanza per l'epoca, a bordo del prototipo creato da suo marito. Quel primo viaggio su un veicolo a motore segnò un momento cruciale della storia umana e del viaggio. Bertha Benz Bertha aveva studiato tutto ciò che a una donna era permesso studiare e in più aveva imparato nozioni di meccanica nel garage di casa. Con il denaro della dote finanziò il progetto del marito e ne divenne di fatto la socia. Lui costruì e brevettò la prima automobile a tre ruote nel 1886, ma l'impresa si arenò poiché a nessuno interessava comprarla. Allora entrò in scena Bertha, determinata a mostrare al mondo che l'automobile avrebbe cambiato il futuro dei trasporti. Insieme ai due figli intraprese un viaggio, il primo mai compiuto, alla guida del prototipo. Durante il percorso dovette fermarsi diverse volte per rifornirsi di carburante e sistemare i guasti che via via si manifestavano, mostrando una creatività squisitamente femminina. Con un fermaglio del suo cappello sbloccò una valvola ostruita, con una giarrettiera isolò un cavo scoperto e con una forcina per capelli aggiustò il sistema di inizione. Inventò le pastiglie del freno, aggiungendo ai deboli freni di legno le suole in pelle delle sue scarpe. Dopo 12 ore di viaggio, Bertha e i due figli giunsero a destinazione. L'impresa finì sui giornali e ciò fornì alla ditta Benz pubblicità e finanziamenti per migliorare il prototipo. Il percorso che lei coprì da Mannheim a Forzheim, nella foresta nera, oggi è noto come la Bertha-Benz Memorial Route. Un secolo dopo Bertha, Anne-Marie Schwarzenbach, svizzera tedesca imparentata con i Bismarck, attraversò in auto il Medio Oriente. Ed è del grande viaggio di Anne-Marie, esploratrice dell'anima, che usò il viaggio come strumento di conoscenza che vogliamo parlarvi in questo docuvideo. Il viaggio per Anne-Marie era come una vita condensata in poco tempo, nulla a che vedere con il turismo mordi e fuggi come lo conosciamo noi, che per un po' ci fa dimenticare la nostra routine quotidiana. Il viaggio, anzi, metteva in luce le debolezze e le fragilità ed era un modo per smascherare le proprie zone di comfort. Anne-Marie aveva già sperimentato il viaggio come cura estrema per liberarsi dalla tossicodipendenza. Nell'ottobre 1939, aveva viaggiato in Turkestan ed errando da sola nel deserto, per un po' ci era riuscita. La nostra vita assomiglia a un viaggio e così il viaggio mi sembra, più che un'avventura e un'escursione in luoghi insoliti, un'immagine concentrata della nostra esistenza. Ci sentiamo spesso fin troppo sicuri. Crediamo di aver costruito la nostra dimora una volta per tutte. Siamo facilmente portati a credere a una stabilità. Dimentichiamo che si tratta del corso della vita, che la Terra è in perpetuo movimento e che l'alto e la bassa marea. I terremoti e gli eventi lontani dalla nostra realtà, visibile e tangibile, toccano tutti. Mendicanti, re, figure dello stesso grande gioco. Lo dimentichiamo, apparentemente per amore della pace della nostra anima, la quale però è costruita su granelli di sabbia. Lo dimentichiamo per non sentire la paura e la paura ci rende ostinati. Chiamiamo realtà solo ciò che possiamo toccare con mano e ci riguarda direttamente. Dove potremmo costruire la nostra casa dipende da mille e un caso. La pace delle nostre povere anime invece ha un meraviglioso dono della libertà a cui non si deve correre dietro, per la quale non si deve mercanteggiare. Il viaggio, invece, che a molti appare come un bel sogno, un gioco seducente, la liberazione dal quotidiano, la libertà per eccellenza, in realtà è impietoso. Una scuola per abituarci all'inevitabile corso della vita, all'incontro e alla perdita in cui si fa sul serio. Come scuola delle donne ci siamo già occupate del viaggio come ricerca spirituale, seguendo le tracce di Gertrude Bell, Alexandra David Neel e Amalia Nizzoli. In questo docu-video di Anne-Marie Schwarzenbach non vogliamo raccontare tanto la sua breve vita. Preferiamo porre l'attenzione sugli incredibili viaggi che compì nei pochi anni in cui calcò il pianeta, specialmente quello con Ella Maillard in Afghanistan nel biennio 1939-40 di cui Anne-Marie tenne un diario edito in Italia da Il Saggiatore col titolo Tutte le strade sono aperte e tradotto da Tina D'Agostini. Diario da cui abbiamo preso le citazioni di questo docu-video. Pagine che entrano nel cuore con la stessa grazia di chi le ha scritte. Questa donna è febica, eterea, distante come fosse solo di passaggio nel mondo con la sua vita travagliata e schiava della droga che seppe scrivere pagine di assoluta poesia riguardo ciò che i suoi occhi vedevano mentre il suo corpo viaggiava verso Est a bordo di una Ford accanto all'amica Ella. Inevitabile pensare soprattutto a Gertrude Bell che mezzo secolo prima percorreva le stesse piste di Anne-Marie ma a bordo di un cammello. Anche Gertrude viaggiava apparentemente per documentare il Medio Oriente come reporter archeologa ma anche lei soprattutto praticava il viaggio come specchio dell'anima come ha scritto nel suo Viaggio in Siria di cui lasciamo il link in descrizione. Entrambe Anne-Marie e Gertrude furono figlie di ricchissimi industriali si lasciarono conquistare dalla paterna e protettiva affabilità degli uomini delle tribù ma alle donne segregate negli aremi e nella schiavitù domestica Gertrude rimase indifferente mentre Anne-Marie empatizzò con loro e ne raccontò le tristi condizioni di reclusione nei suoi scritti come sentirete nelle letture in coda al docu-video. Certo Gertrude lasciò spontaneamente la sua dimora di famiglia in Inghilterra mentre Anne-Marie venne praticamente cacciata dalla madre sicuramente mascolina e annaffettiva ma anche esasperata dagli eccessi della figlia e incapace di sopportarli oltre. Anne-Marie Schwarzenbach nacque nel 1908 in una ricchissima famiglia svizzera di industriali nel canton dei Grigioni in una delle valli alpine più incantevoli. Il padre era un uomo colto e dedicò molto tempo alla figlia dal viso angelico e dall'intelligenza brillante. La sua infanzia fu ricca e fortunata aveva con le madre un legame fortissimo il padre la viziava il fratello la capiva Anne-Marie fu dichiaratamente omosessuale anche se sposò un diplomatico francese per avere un passaporto diplomatico che le consentisse di muoversi più facilmente vestiva abiti maschili e cravate ma nonostante l'aspetto androgino era molto femminile diversamente dalla madre che aveva invece una spiccata attitudine al comando amava solo i cavalli che allevava ed era molto mascolina anche sua madre ebbe un'amica speciale che viveva sotto il loro stesso tetto con il consenso del padre dunque Anne-Marie ebbe un esempio molto significativo davanti agli occhi fin da ragazzina la fotografa svizzera Marianne Breslauer definì Anne-Marie un arcangelo di ambiguità carismatica e mal di vivere inconciliabile la dimora di famiglia era una piccola reggia un mondo dorato del quale però ad un certo momento lei si stancò non concepiva che ci fossero distanze così grandi tra la ricchezza del suo entourage e la povertà di tanti popoli la sua attitudine anticonservatrice le attirò l'ostilità della madre che organizzava eventi mondani con artisti e membri dell'alta società tra i quali lo spirito di Anne-Marie non si sentiva a suo agio poiché lei rappresentava l'esatto opposto della rigida impostazione familiare ultraconservatrice si iscrisse all'università di Zurigo facoltà di storia e letteratura e frequentò alcuni corsi alla Sorbona tuttavia fu a Berlino e a Monaco dove si sentì più a suo agio soprattutto quando conobbe la forte e positiva Erika Mann figlia del Nober per la letteratura Thomas Mann con la quale ebbe un rapporto burrascoso ma molto intenso che fu il suo punto di riferimento per tutta la sua breve vita poco più che ventenne Anne-Marie viaggiò in Spagna vicino Oriente Africa Stati Uniti Paesi Baltici Unione Sovietica Svezia Austria e Cicoslovacchia dal 1933 partecipò nel vicino Oriente ad alcune campagne di scavi archeologici e soggiornò in Siria e in Iran a 27 anni sposò Claude Clarac un diplomatico francese a Teheran era il 1935 Ella Maillard conobbe Anne-Marie Schwarzenbach nel 1938 a Iverdon dove Anne-Marie era in cura le due viaggiatrici erano possedute da uno spirito d'avventura particolare dalla Svizzera raggiunsero l'Afghanistan a bordo di una Ford Roadster Deluxe e diedero un contributo inestimabile alla letteratura di viaggio attraversarono i Balcani e la Turchia poi l'Armenia e quindi dal Mar Nero fino a Trebisonda in Iran e nel Kurdistan poi a Teheran e Tabriz nell'Azerbaijan iranico e infine in Afghanistan e ad Herat due donne che senza paura partirono con una precisa idea spirituale del viaggio come scrisse Anne-Marie questo desiderio questa ricerca dell'assoluto sono probabilmente i motivi profondi che spingono ogni vera viaggiatrice il resoconto tra sognante e dolente delle desolate terre che attraversò fino in Afghanistan sembra lo specchio della sua stessa interiorità anch'essa desolata e incapace di trovare stabilità e un suo posto nel mondo vagavo così per Istanbul come una sonnambula rifiutando di abbandonarmi allo spettacolo familiare che mi circondava e oltre il mare di tetti il mio sguardo si rivolgeva sempre alle rive dell'Asia laggiù iniziava un altro mondo iniziavano le colline brulle dell'Anatolia simili a onde impietrite la soffiavano venti più forti la voce umana si perdeva i lucidi e i greggi pascolavano su prati senza fine laggiù si consumavano sacrifici che si perpetuavano di steppa in steppa verso est fino alle terre dei nomadi dagli occhi amandola del Turkestan e sempre più lontano fino al Mar Giallo laggiù c'era la soglia che dovevo varcare a Istanbul un ingegnere giovane e sveglio ci avverte due donne che viaggiano sole senza parlare nemmeno una parola di turco e vogliono andare in Iran da Trebisonda passando per l'interno dell'Anatolia magari non avete problemi ma forse ne avrete quanto basta per farvi passare la voglia di viaggiare per tutto il resto della vita le due donne prepararono il viaggio con grande scrupolosità non si buttarono da incoscienti in una pazza avventura poiché erano entrambe professioniste del viaggio studiarono carte consultarono esperti allertarono redazioni giornalistiche a Londra Parigi Berlino cui inviavano periodicamente il loro reportage grazie ai quali potevano continuare a finanziare il viaggio alla partenza il bagagliaio della Ford strarripava di ben cinque apparecchi fotografici macchine da scrivere mappe libri fissati sul retro degli schienali e ricambi meccanici ma come vedremo a Kabul si separarono il loro rapporto già difficile si interruppe e Anne-Marie tornò in Europa mentre scoppiava la seconda guerra mondiale mentre ella continuò col percorso che aveva progettato fino in India ella raccontò la sua versione del viaggio nella sua dimensione di scoperta interiore compiuto insieme all'affascinante amica e lo intitolò La via crudele un titolo davvero simbolico anche questo libro in via di lettura nel nostro canale YouTube ella era una donna positiva pratica sportiva desiderava salvare la sua amica dall'autodistruzione ma Anne-Marie non voleva essere salvata voleva viaggiare con i suoi fantasmi a Sofia Anne-Marie per la prima volta tradì la parola data e si procurò della morfina nonostante le difficoltà in famiglia Anne-Marie sentiva nostalgia di casa e ciò la rendeva fragile a Istanbul Anne-Marie ebbe una seconda ricaduta nella droga e ciò compromise il rapporto tra le due ad ogni modo arrivarono in Armenia il mitico Ararat e il monte dell'Arca che delimita la frontiera era fra Iran e l'allora Georgia sovietica le valli dell'Azerbaijan ricordo perfettamente il velo delicato e conturbante della rugiada il giorno in cui spossato dal calore dopo la ripida salita tremavo di freddo nel piccolo giardino del Lemiero mentre una giovane contadina mi portava le labbra alla brocca d'acqua perché noi siamo così gioiamo alla vista delle perle del mare azzurro di un'ora di pace nonostante il fragore degli incendi guardiamo oltre i campi di macerie per imparare tutti la stessa preghiera Signore aiutaci a sopportare questa vita in questo paese spietato si può essere tentati di credere che il globo stia per spegnersi e cora verso la propria fine divenuto ormai in ospitale per il breve soggiorno dell'uomo devo ritornare con i piedi per terra mi dico e difendermi contro questa terribile visione la lotta con le nuvole con il vento che toglie il respiro con il freddo e la stanchezza con l'empia paura la lotta con l'angelo e per il pane quotidiano sono tutt'uno ed è questo il nostro destino che cosa mi può importare di queste rovine del colore dell'argilla del deserto tanto varrebbe accusare il tempo che fugge e volergli girare le spalle tanto varrebbe volersi proteggere dal proprio stesso respiro che scorre giunte a teheran dovettero sbrigare molte pratiche burocratiche per lasciare il paese e poter finalmente prendere la strada dell'afghanistan distante 1200 chilometri ma a kabul come abbiamo detto le aspettava la fine del viaggio insieme Anne-Marie si ammalò di bronchite il medico del consolato le impose dieci giorni di convalescenza e il fermo Anne-Marie nervosa e depressa non si curava e continuava a fumare dunque non migliorava ciò che scatenò un'accesa discussione con ella la quale capì che il viaggio insieme era finito Anne-Marie in quanto moglie di un diplomatico si trasferì al consolato francese ella come abbiamo detto proseguì per l'India e vi rimase Anne-Marie si imbarcò con la sua Ford per tornare in Europa a quello seguirono altri viaggi reportage ma la sua irrequietezza non le dava tregua e durante un soggiorno negli Stati Uniti si mise in condizioni di venire ricoverata in una struttura psichiatrica da cui la riscattò il fratello viaggerà poi ancora in Congo e in Nordafrica mi viene servito del cibo una scodella ricolma di un dolce fatto di zucchero e albume montato il giovane spezza il pane piatto ne immerge alcuni pezzetti nella massa bianca e me li porge poi distribuisce ciò che rimane ai bambini poi tè verde non zuccherato la Chim sciacqua lui stesso tre volte la tazza del tè il vostro pane è buono dico annuiscono abbiamo pane abbiamo grano e campi e abbiamo pecore cavalli asini abbiamo anche uve e meloni siamo fortunati abbiamo l'acqua qui al villaggio siamo afghani veniamo dalle montagne hanno costruito le capanne dove la terra è povera l'acqua preziosa e la vita dura in mezzo ai grandi venti del deserto hanno conservato il loro buon pane i loro cavalli fieri e le donne non portano il velo forse sono altrettanto poveri dei nostri taggichi o più poveri ancora perché a guardar bene in questo villaggio ci sono meno acqua meno alberi meno campi si può ma la pena chiamarla un'oasi e il deserto è altrettanto crudele ma che ospitalità che ino alla vita allora ricordo che a Ishtalif io sono solo un'estranea arrivata per casi in quei vicoli in quei giardini e cortili tollerata solo come spettatrice sulla soglia di un'esistenza regolata secondo leggi pacifiche lascio il villaggio e senza nemmeno sapere dove mi dirigo vado incontro una lunga sera incontro alle distese desolate di quei colli gialli che succedono come onde del mare uccidere le ore frenare l'impazienza arginare la lontananza eppure poco fa provavo ancora un senso di pace presso i vasai di Ishtalif e nella luce della sera la terra sembrava riversare la sua clemenza su di me e su di loro in quel momento un uomo esce dal suo giardino mi saluta con aria gentile e severa offrendomi una manciata di noci che estrai dalla larga cintura apre la porticina prendile ne ho ancora questo è il mio giardino la mia capanna il sole splende ancora tra i rami del vecchio albero il fuoco è già acceso sì mia ospite questa sera entra ella e Anna Marie tuttavia continuarono a scriversi ma l'ultima lettera di ella rimase senza risposta Anna Marie era morta a suo ritorno in Svizzera per un banale incidente in bicicletta nel 1942 la madre e la nonna che non accettarono mai la vita scandalosa esregolata della giovane donna cercarono di nascondere la sua produzione letteraria e anche la sua memoria bruciando le sue carte e per un periodo ci riuscirono la memoria di Anna Marie Schwarzenbach sembrò cancellata ma a 40 anni dalla sua morte alcune carte riemersero restituendole il posto che le spetta tra le grandi viaggiatrici del XX secolo di seguito ascolterete due capitoli tratti da Tutte le strade sono aperte dedicati alle donne e a come Anna Marie le vedeva ed entrava in empatia con loro pagine di grande umanità e dolcezza che meglio di qualunque altra descrizione ci permettono di percepire l'anima di questa grande viaggiatrice che fu Anna Marie Schwarzenbach Fino a quel momento Ella e io avevamo potuto fare solo discorsi teorici sulle donne afghane nel corso di molte settimane trascorse in questo paese rigidamente maomettano avevamo fatto amicizia con contadini e funzionari cittadini soldati commercianti dei bazar e governatori di provincia ovunque eravamo state accolte con ospitalità e avevamo cominciato ad affezionarci a questo popolo di uomini coraggiosi allegri e integri nella magnifica antica città di Herat avevamo assistito alle gare di scherma e alla preghiera comune dei giovani che la sera si riunivano su un prato davanti alla porta della città in viaggio durante i lunghi percorsi senza ombra quando facevamo una sosta si univano noi semplici contadini che dividevano con noi i loro meloni non avevamo mai dovuto piantare la tenda e cucinarci la zuppa da sole nei paesi venivamo salutati dai sindaci e accolte con tè e uva la sera ci accompagnavano in bei giardini dove attenti servitori portavano il pila la pietanza locale a base di riso e mentre mangiavamo arrivava l'ospite con il suo seguito per farci visita fermandosi spesso a parlare a lungo con noi ma sembrava di vivere in un paese senza donne conoscevamo il chador l'abito che nasconde tutto il corpo delle maomettane e che ha pochi in comune con l'immagine romantica del delicato velo delle principesse orientali avvolge stretto il capo e davanti al viso ha una specie di piccola grata per ricadere poi in ampie pieghe fino a terra lasciando a malapena visibile le punte ricamate e i tacchi consumati delle calzature avevamo visto alcune di queste figure imbaccucate in formi passare veloci per i vicoli del bazar e sapevamo che erano le donne degli afghani che camminavano fieri e liberi chiamavano la compagnia stavano allegramente a conversare trascorrevano metà della giornata a uziare nelle case da te e nel bazar ma queste apparizioni spettrali avevano poco di umano erano ragazze madri vecchie che età avevano erano allegre o tristi belle o brutte come vivevano che cosa facevano a chi andava la loro attenzione il loro amore e il loro odio in Turchia così come in Iran avevamo visto scolare giovani esploratrici studentesse anche donne autonome che lavoravano oppure altre impegnate nel sociale che contribuivano alla costruzione di una fisionomia nazionale e la cui esistenza non poteva più essere ignorata nella vita del paese sapevamo che il giovane re Amanullah di ritorno da viaggio in Europa aveva introdotto in Afghanistan una serie di riforme realizzate in modo precipitoso tentando di seguire in particolare l'esempio della Turchia aveva proceduto troppo in fretta lì veniva soprattutto rimproverata l'emancipazione delle donne per qualche settimana nella capitale Kabul era stato abolito il Chador poi era scoppiata la rivoluzione le donne erano ritornate nell'arem relegate in casa e potevano ora mostrarsi nuovamente in strada solo coperte dal velo questi primi accenni di libertà erano già stati dimenticati queste poche settimane dell'anno 1929 erano state cancellate dalla memoria delle donne un giorno fummo ospiti di un giovane governatore aperto intelligente in una località del nord ella osò fare la domanda il nostro ospite aveva dimostrato grande comprensione per la necessità dello stato afgano e aveva detto che la costruzione di strade avrebbe aperto il paese al commercio che sarebbero poi nate industrie ma anche scuole ospedali si potevano escludere le donne da un simile programma di progresso non avevano il diritto di partecipare a questa nuova vita e di essere liberate da quella restrizione della loro esistenza che le rende insensibili a tutto il governatore ci rispose in maniera evasiva quando chiedemmo cortesemente se potevamo fare visita a sua moglie in un primo momento ce lo concesse ma poi inventò una scusa solo a Kaisar un piccolo villaggio in un osi nella provincia del Turkestan a nord del paese con nostra grande sorpresa fumo condotte dalla Hakim Saib il sindaco stesso senza tante cerimonie attraverso una porticina all'interno di un giardino della sua casa nel giardino delle sue mogli e figlie due ragazzine in abiti estivi capelli scuri avvolti da un leggero velo morbido ci vennero incontro sorridenti erano entrambe molto belle e lo era anche la madre dal portamento nobile e lo sguardo serio e gentile che ci accolse sotto i grandi alberi dove erano stesi alcuni tappeti vi giocavano anche i bambini i fratellini e le strulline più piccole e il bimbetto biondo di Sara la nuora il suo secondo figlio dormiva in un'amaca all'ombra un po' discosto sotto la tettoia di una semplice casa di argilla c'era il samovar portarono prima una bacinella d'acqua e alcuni asciugamani poi tè e frutta un'ora dopo ci venne servito il pilaf la madre mangiò con noi al tavolo alla maniera europea le figlie ci servirono e poi si sedetero a mangiare con i bambini sul tappeto tutti prendevano il cibo che le dita dalla stessa enorme scodella di riso gli abbondanti gli abbondanti resti del pasto furono mangiati dalle serve alla fine mentre la famiglia della Kim aveva i tratti belli e severi degli afghani le serve erano evidentemente di razza mongolica forse turkmene o uzbeke dopo pranzo portarono materasse di seta e zanzariere ma non c'era tempo per riposarsi sebbene le ragazze non parlassero nemmeno una parola di francese e noi conoscessimo solo qualche parola di persiano cominciamo una conversazione animata ci portarono un tessuto di seta azzurro e un paio di forbici chiedendoci di tagliare loro un vestito non osamo farlo e promettemmo di mandare loro da Kabul delle riviste francesi con modelli da taglio per le donne di Kaiser Kabul rappresentava già il grande mondo la civiltà eppure era stato loro insegnato in casa naturalmente a leggere e a scrivere e sapevano dove era l'India Mosca Parigi conoscevano perfino la Svizzera ma non avevano mai viaggiato non riuscivano a immaginare di poter andare mai oltre Masari Sheriff la capitale del Turkestan afgano ma desideravano davvero conoscere il mondo fare una vita diversa o sarebbero state per sempre nel giardino ombroso circondate da alte mura di argilla di Kaiser sotto la custodia patriarcale severa della loro madre signora verso sera quando iniziò a fare più fresco la Kim ci fece chiamare il piccolo biondo Jakub aveva avuto il permesso di accompagnarci fino alla macchina le ragazze invece rimasero accanto alla porta del giardino erano indubbiamente ragazze intelligenti dotate e graziose ci venne di nuovo in mente il loro sorriso la loro espressione sveglia e gentile solo la giovane nuora ci aveva guardato qualche volta con uno sguardo duro quasi cattivo mentre prendeva il neonato dall'amaca per allattarlo viveva nella famiglia del marito tra estranei non aveva una casa propria e non aveva nessuna libertà né diritti quando queste ragazze uscivano dal giardino portavano il cador e vedevano il mondo esterno solo attraverso la piccola grata traforata che nascondeva il loro volto agli occhi curiosi degli uomini per noi una vita del genere è inimmaginabile ma queste donne erano davvero infelici si può desiderare solo ciò che si conosce ed era giusto necessario istruirle informarle e far nascere loro il pungolo dell'insoddisfazione imparamo ben presto che una domanda del genere non si pone nemmeno l'afghanistan si sviluppa oggi secondo le fatali leggi che chiamiamo progresso il cui corso è inarrestabile quando da kabul mandammo a kaisar i modelli promessi anche noi contribuimmo seppur in maniera minima a dar seguito a quelle leggi combattemmo contro il chador conobbi la donna all'ospedale maschile di kabul nella misera stanza mare scaldata da una stufa elettrica antidiluviana della capoinfermiera svizzera era arrivata con un gadi uno di quei piccoli calessi a due ruote trainati da cavalli vivaci che riescono a passare non si sa come attraverso gli angusti vicoli dei bazar della capitale afghana portava il chador lo stesso velo grigio che avvolge la testa come una cuffia per ricadere poi in ampi pieghe dalle spalle fino a terra nascondendo completamente il corpo delle donne afghane lei però non era afghana era cresciuta in ormandia sulle rive del mare una bambina felice dalle trecce bionde amica dei suoi fratelli del cane nel cortile dei cavalli dagli zoccoli pesanti dalle mucche pezzate e pigre della fontana gorgogliante delle scogliere delle spiagge dei venti freddi della sua patria francese mi tese la mano con un giasto timido non ero molto a mio agio perché avevo percepito l'arrivo di questa figura triste e spettrale con una sensazione di paura quasi di orrore che mi paralizzava eppure avrei dovuto essere abituata perché le donne afghane si assomigliano naturalmente tutte nei bazar nelle strade polverose delle città e dei villaggi nei giardini cintati e dalle case private sapevo solo che il chador delle donne ebree è nero quello delle afghane è grigio o azzurro ma immagino che vi siano anche altre differenze dall'orlo dei chador sbucano le punte ricurve delle ciabatte indossate dalle contadine i tacchi consumati delle donne povere i sandali di velluto ricamati delle signore ma io vorrei vedere un volto occhi vivaci una bella bocca un sorriso invece incontro sempre la stessa grata che mi passa davanti furtiva e so bene che questi esseri impauriti indifesi vedono attraverso la grata che copre loro gli occhi appena quel tanto che basta per evitare i cammelli che avanzano ondeggiando i cavalli tintinnanti dei gadi gli uomini che procedono allegri e con passo deciso vivono in una paura costante quando la donna capì che non era un ragazzo si tolse il chador con un gesto goffo sotto era vestita all'europea ma con poco gusto e senza molta cultura bevemmo il nostro te in silenzio io però avrei voluto farle un'infinità di domande perché ha sposato un afgano certo è di buona famiglia è imparentato con un ministro della corte ha studiato a Parigi e ricopre già una carica importante nelle poste è anche gentile forse un tempo lei lo amava o è ancora affezionata a lui o a suo figlio questo bambino dalla pelle scura turbolenta arrogante che non le somiglia per nulla non aveva idea di tutto questo che cosa significava allora per lei quel bel nome Afghanistan nella sua totale estraneità quando lei appena ventenne ha scelto un destino sconosciuto e forse proprio per questo motivo straordinariamente affascinante abbandonando a cuore fin troppo leggero ciò che le era più familiare avrei voluto sapere come si viveva in una famiglia afghana dove la madre le nuore le cognate le sorelle le parenti poveri vivono tutte insieme nutriendosi di ozio ricamando un poco bevendo molto tè mangiando dolci chiacchierando e come avevo già avuto modo di constatare senza essere nemmeno capace di occuparsi dei propri figli di fronte di fronte all'incredibile disordine di una simile casa alla pigrizia e la disobbedienza delle serve e la sfrontata insolenza dei figli maschi che imparano ben presto a disprezzare le donne alla sporcizia alla trasandatezza generale alla noia ma le donne sono impotenti non sanno nemmeno che si può vivere diversamente come si può mai pensare che una ragazza cresciuta in Europa possa sopportare tutto questo che anzi lo condivida lo accetti sprofondando nell'agonia di un tempo strisciante a ogni istante perduto per sempre come si può pensare che condivida giorno dopo giorno questa esistenza che diventi maligna quanto alle cognate o le vicine che partecipe alla tirannia della nonna agli infiniti pettegolezzi dimenticando che fuori a pochi passi dalle mura del cortile un cielo luminoso si stende sopra giardini tetti vicoli e prati e sopra una terra che sempre si rinnova ed una vita e conforto aveva dimenticato tutto questo la nostra ospite l'infermera svizzera cercò di mantenere viva la conversazione parlò del suo lavoro era l'unica europea e l'unica donna qui doveva gestire 50 infermieri e assistere 120 malati doveva lottare con il ministro della sanità per riuscire a ottenere un termometro perfino l'alcol perché l'alcol in questo paese rigidamente islamico è severamente vietato doveva controllare quotidianamente il cibo che veniva preparato in una capanna fuori dell'ospedale doveva intervenire con decisione quando il clan dei parenti circondava il letto di un paziente febbricitante tra peghiere e lamenti doveva convincere gli infermieri a rifare i letti tutti i giorni a spogliare e lavare i malati più gravi assisteva a ogni operazione chirurgica faceva personalmente ogni iniezione a casa sul lago di Biel aveva lasciato due figli piccoli di loro si occupavano i nonni mentre lei guadagnava denaro qui a Kabul per assistere loro a un futuro mentre l'infermiera raccontava con la massima semplicità come sia possibile vivere con degnità una vita molto difficile e portare a termine gli impegni presi osserva la nostra visitatrice silenziosa continuava a mangiare i pezzettini di dolce che emergeva nella sua tazza di tè il suo viso leggermente gonfio stranamente inespressivo avrebbe anche potuto rimanere nascosto sotto il velo come sta suo figlio le chiese l'infermiera lei scoppiò improvvisamente in un pianto silenzioso poco dopo quando arrivò a prenderla il marito indossò il ciador in tutta fretta e se ne andò mi asteni da domandare se una donna afghana possa chiedere il divorzio era evidente che quella povera donna non avrebbe mai avuto il coraggio di togliere il ciador il suo viso piatto anche se piuttosto grazioso aveva già assunto tratti orientali appariva vecchio senza età perfino quando era scoppiata in lacrime aveva mostrato solo miseria ma nessun dolore autentico nessun pentimento nessuna fiera ribellione ebbi in seguito occasione di conoscere altre donne afghane con e senza accedore la maggior parte di loro si assomigliava a tal punto che la mia memoria è incapace di distinguerle ma incontrai anche alcune bambine nell'autunno dell'anno scorso quando il governo aprì la prima scuola e le femminile di Kabul assumendo donne competenti come insegnanti le mogli dei professori della scuola francese se si vogliono conoscere le condizioni di un popolo basta guardare i giovani nulla in loro risulta ancora deformato quando dicono non è ancora definito dalle convenzioni né appetito dalle abitudini dalle condizioni di vita dalle costrizioni e manifestano con meravigliosa spontaneità intelligenza e gioia di vivere le scuola rette di Kabul erano bambine estremamente dotate vivaci e ricettive altrettanto intelligenti dei maschi erano graziose con occhi così luminosi da rendere difficile immaginare che queste esili figure questi piccoli volti delicati attenti sarebbero stati un giorno rinchiusi all'ombra delle mura di un'are nella cupa prigionia del Chador forse oggi in Europa siamo diventati scettici di fronte a parole come libertà responsabilità pari diritti per tutti e altro del genere ma basta aver visto da vicino questa tetra schiavitù che trasforma creature di Dio in esseri senza gioia impauriti per scrollarsi di dosso come un brutto sogno il proprio conforto e dare nuovamente ascolto alla voce della ragione che ci incita a credere ai semplici propositi di un'esistenza degna e umana e a difenderli